Nella puntata del 20 settembre del Segreto, Severo brinda con Carmelo per la miseria di donna Francesca Montenegro, avvenuta grazie alla sua denuncia per evasione fiscale, ma Severo ha molto altro di cui gioire. L'uomo è riuscito a convincere sua sorella Sol, a restare a casa sua, inoltre, ha garantito uno stipendio agli ex braccianti della cattiva Francesca. Quest'ultima è caduta in miseria e verrà umiliata da Severo. Prado, che ha subito il fascino del bel straniero Sixto, ignara del fatto che lui sia un Don Giovanni, finisce per baciarlo sulla riva del fiume, ma Matthias assiste alla scena e ne esce col cuore a pezzi. Nel frattempo Ines e Bosco, che si sono da poco sposati, stanno per affrontare una brutta avventura. La donna si sente sempre più male e, convinta di essere incinta, si fa visitare da Lucas. Ma che cosa Ines?